Massimo Cacciari, oggi il presidente Mattarella ha detto che il cordoglio per le vittime del naufragio in Calabria deve tradursi in scelte concrete e operative da parte dell'Italia e dell'Europa. Fa bene Giorgia Meloni a portare il Consiglio dei Ministri a Cutro giovedì prossimo e che cosa si aspetta? Intanto quante volte abbiamo sentito dopo queste stragi annunciate il cordoglio e l'auspicio che Italia ed Europa si comportino diversamente su intorno a questo tragico epocale problema delle migrazioni di massa dai paesi più poveri verso quelli che si ritengono più affluenti, quindi lasciamo stare gli auspici. Sperare è lecito, cosa vuole che ci rimanga? Come diceva quel tale l'ultimo dei mali al fondo del vaso è la speranza, quindi sperare è lecito, sperare che l'Italia e l'Europa comprendano che è ignobile, che è indecente continuare appunto con gli auspici e le lacrime di coccodrillo dopo e affrontino dei piani seri con i paesi da cui questa povera gente proviene, un piano europeo per l'immigrazione e l'integrazione di questa gente all'interno dei nostri paesi. Cioè è sperabile, no? Cosa possiamo dire? Speriamo, che altro ci rimane? È doveroso sperare. Ma lei si aspettava... Se poi mi dice quanto ci creda questa mia speranza, poco, nulla, ma mi tocca sperare, come si vuol dire. Ma Giorgia Meloni avrebbe dovuto comportarsi in modo diverso in questo frangente perché le opposizioni soprattutto hanno detto che ci ha messo una settimana per dire qualche cosa di forte. Il governo deve sicuramente fare di tutto per accertare le responsabilità, su questo non c'è dubbio alcuno. E se non fa di tutto per accertare le eventuali responsabilità è in grave colpa, non c'è dubbio alcuno. Dopodiché, ripeto, questo governo come gli altri precedenti su questa questione non hanno fatto nulla. Questa è la verità. Né in Italia né in Europa. Punto. Questa è la situazione. Quindi è inutile gettare la croce addosso agli uni e agli altri. È una colpa europea, è una colpa della cultura, della civiltà e della politica europea e ci tocca a tutti sperare che finalmente le cose possano procedere per una direzione diversa. Nella consapevolezza che si tratta di un problema storico, epocale, perché insomma è un problema di squilibri economici, di situazioni sociali ed economiche talmente contraddittorie e squilibrate che da lì dipendono queste migrazioni eccetera. E quindi o si affrontano alla radice queste cause oppure ci troveremo continuamente a piangere stragi a prescindere dal governo che ci tocca avere in Italia. Allora Alessandro...